Oltre le sbarre, rieducare libertà, il tema dibattuto nella sala consigliare di Castrovillari ed inserito nel ricco cartellone Festival della Legalità in corso di svolgimento nella città del Pollino per parlare dell'esperienza del laboratorio di scrittura creativa Svoltosi presso la Casa Circondariale di Castrovillari, promosso dall'Associazione Liberamente ed inserito nell'ambito del progetto Liberare le Storie Sostenuto da Fondazione per il Sud Il laboratorio, tenuto dalla giornalista e scrittrice Rosalba Baldino, coadiuvato dalle volontarie Caterina Luci e Anna Palermo Ha coinvolto 12 detenute della Casa Circondariale È stata un'esperienza molto significativa, intanto perché l'Associazione Liberamente ha voluto, la prima nella provincia di Cosenza Sperimentare la scrittura come strumento di rieducazione e di anche reinserimento da parte delle detenute Ed è la prima volta che questa cosa la facciamo all'interno di un carcere femminile Quindi il merito liberamente per aver voluto sperimentare uno strumento immateriale qual è la scrittura E le detenute hanno collaborato molto perché con la scrittura sono venuti fuori i sogni, sono venute fuori anche le difficoltà Hanno imparato a far venire fuori ciò che avevano dentro E poi questo esperimento è importante perché verrà fuori un volume con gli scritti, con gli elaborati delle detenute Questi lavori saranno accompagnati da personaggi esterni Abbiamo cercato di unire i dentro e i fuori per liberare le storie Presenti il direttore della casa circondariale Mario Antonio Galati Carmine Di Giacomo, comandante del reparto di polizia penitenziaria Don Francesco Faillace, responsabile regionale Cappellani, istituti penitenziari Luigi Bloise, responsabile area trattamentale E il presidente dell'associazione Liberamente, Francesco Cosentini Abbiamo capito che è molto importante lo scrivere da parte dei detenuti Perché hanno un momento proprio di libertà e di dire le cose che sentono A portare il saluto il sindaco di Castrovillari Mimmo Lopolito